Con la solenne cerimonia dell'Alza Bandiera accompagnata dalle note dell'Inno di Mameli, i militari della Brigata Pinarolo e gli studenti pugliesi hanno ufficialmente dato inizio all'anno scolastico 2022-2023. L'evento, coordinato con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, si è svolto simultaneamente in otto città, alcune delle quali ospitano i reggimenti che costituiscono le grandi unità dell'esercito italiano. Ad accompagnare il ritorno dei ragazzi tra i banchi di scuola, oltre ai militari, erano presenti i familiari dirigenti scolastici e il corpo docente. Al termine dell'Alza Bandiera alcuni alunni hanno avuto modo di leggere un elaborato sul tricolore. L'evento si è svolto anche a Foggia. Le note dell'Inno di Mameli hanno dato il via al nuovo anno scolastico per gli studenti pugliesi.